Buongiorno e benvenuti a questa Zuppa di Porro di oggi, domenica 8 luglio. Allora, oggi leggi i giornali e alla fine capisci per quale motivo forse è bene che Salvini sia al governo. E tutto sommato passi tutto, passi le minchiate come il decreto dignità, che è una schifezza totale, passi il ministro Costa, il forestale, che viene reso carabiniere e diventa adesso ministro dell'ambiente e nell'intervista di oggi ne dice, capisci che uno proprio, che forse non ha molto l'idea del posto in cui si trova. Insomma, oggi vedi l'attacco concentrico nei confronti di Salvini e ti suona un po' quella rietta come nel 94 per cui non ci vogliono stare. Non ci vogliono stare anche, voglio dire, anche io molti di voi mi criticano, ah, stai criticando Di Maio, Salvini, eccetera. Sì, però quando leggo i giornali di oggi, per quanto si possa criticare Matteo Salvini o Di Maio per gli errori che commettono, beh, insomma, vi dico la verità, ti viene il ribollimento di sangue. Perché ti viene? Beh, perché innanzitutto, voglio dire, questa roba delle magliette rosse, che con un governo diverso, quello per esempio del Movimento 5 Stelle col PD, sarebbe stato il movimento per cui tutti avrebbero messo questa minchia di maglietta rossa, per fortuna che non ne ho neanche uno, mi sono tolto anche gli occhiali rossi che ho indosso per evitare che ci sia qualche confusione, è proprio il segno di quel mondo assurdo per la quale, grazie a loro, Salvini ha vinto le elezioni e continuerà a vincerle fino al 60-70%. Non c'è Polito, non c'è Galli della Loggia, non c'è Eugenio Scalfari, non c'è pensoso editoriale che potrà far capire perché ha vinto Matteo Salvini più della foto di questi qua con le magliette rosse. Non ce n'è uno di più. Quelli fanno capire perché in Italia la gente si è rotta le balle. Si è rotta le balle di vedere Alessandro Gasman che sarà pure un bravo lettore con la maglietta rossa, Vanessa Incontrada con la maglietta rossa, Enrico Letta con la maglietta rossa, Roberto Saviano con la maglietta rossa, Don Luigi Ciotti ci ha rotto le balle. E la gente vota Salvini. Perché sapete qual è il tema della maglietta rossa? Se la sono scritta, sembrano talmente complicati che dovrebbero essere candidati al premio strega per l'emorragia di umanità. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Io mi metto le maglietta rossa per l'emorragia di umanità. E allora è evidente che gli prendi per il culo perché c'hanno il Rolex. È evidente che la prima cosa che dici... Senti, Vanessa Incontrada, tu che pensi che ci sia una emorragia di umanità, tu che hai capito che c'è una emorragia di umanità, fai una cosa. Domani mattina prendi uno che c'ha un'emorragia di umanità alla stazione centrale. Lo trovi, eh? Perché lo trovi? Ti togli la maglietta rossa e te lo porti a casa. Tu dici, ah ma sei un populista, stai rispondendo come un cazzaro verde, come direbbe Travaglio. Perché oggi Travaglio continua a dire che quello è un cazzaro verde, perché Travaglio non ci sta al governo giallo-verde. Lo vorrebbe solo giallo, cioè vorrebbe solo i cazzari gialli, non quelli verdi. Però la cosa che mi diverte... Prendiamo Gassman, Gassman, ti metti la maglietta rossa, pensi che ci sia questa emorragia di umanità. Prendi uno che sta soffrendo questa emorragia di umanità, te lo porti nel tuo bagnetto, lo tieni là e gli fai fare il cameriere. Va bene, fai fare il cameriere, gli dai gli 800 euro. Non lo puoi fare, probabilmente, perché poi non gli paghi i contributi, come non gli paga Fico alla sua cameriera. Allora, se mettete tutto insieme, voi capite, voi capite per quale motivo è tutto ridicolo. È tutto ridicolo perché io trovo... ho ribrezzo a dover, come possiamo dire, commentare che, come qualcuno sta dicendo voi, che uno si mette la Lacoste rossa ed è ridicolo. No, perché secondo me uno si può mettere la Lacoste, si può mettere anche il Rolex, può fare quello che cacchio gli pare. Quello che uno non può fare è parlare di emorragia di umanità. Perché se continui a parlare di emorragia di umanità, quando cerchi di rendere l'immigrazione in Italia regolare, vuol dire che tu farai vincere Salvini per i prossimi 50 anni. Quindi invece di parlare di magliette rosse, quando tu vedo... Letta, con la maglietta rossa, invece di fare Letta la maglietta rossa, andasse al congresso del PD, dove c'è stato ieri, che era, sì, un'emorragia di umanità. In cui Renzi, secondo tutte quante le... Come possiamo dire? Tutte quante le cronache di oggi, quelle stesse che fino a poco tempo fa Renzi era il più grande di tutti, gli stessi che oggi giornali che si chiedono cosa è successo a sinistra, non gli stessi che dicevano che Renzi era un fenomeno. Ebbè, quel Renzi lì va e dice anche colpa vostra. Non pensate che sia soltanto colpa mia. Può anche darsi. Non lo metto in discussione. Ma attacca Gentiloni, lo stesso Gentiloni, che però Renzi voleva utilizzare in campagna elettorale come sua grande bandiera. Attacca Zingaretti, che è stato l'unico forse a prendere i voti per essere rieletto nella regione Lazio. Io non ce l'ho con Renzi minimamente, però cerco di dire che se c'è qua un'emorragia, è quello che si vede nella organizzazione della sinistra. E se vi posso permettere, anche Berlusconi, che ha fatto una lettera molto bella oggi contro il decreto dignità, va benissimo che Berlusconi faccia questa lettera, il decreto dignità che punisce le imprese. Ha ragione. Ma è passata una settimana. Presidente Berlusconi, è passata dieci giorni. Conviene che qualcuno lo dica prima, che lo dica in maniera efficace, che spieghi che ci vuole più contratti a tempo determinato, che abbia una posizione forte, che sia fatta da giovani, che siano più credibili. Non che Berlusconi non sia credibile, ma francamente, forse in questo momento ci vuole un segnale un po' più forte. Lo dico perché disperatamente questi ci renderanno, questo governo ce lo faranno rimanere per i prossimi 50 anni a forza di magliette rosse. Non basta. Perché oggi su Repubblica io leggo l'intervista di Camilleri. Camilleri, un grande mosto sacro, che è intervistato da Simonetta Fiori. Allora, a un certo punto a Cavaliere dice ma si rende conto della gravità di un ministro dell'interno, sarebbe Salvini, che minaccia uno scrittore sotto scorta come Saviano di levargli la tutela dello Stato. Parole mafiose. Parole mafiose. Parole mafiose. Cioè, sostanzialmente, Camilleri ci sta dicendo che se il ministro degli interni mette in discussione lei, che poi non lo farà mai, e non lo sta mettendo in discussione perché mi sembra che ce l'abbia lui, come tantissimi altri... Io ho colleghi giornalisti, ma non quelli che stanno sul campo, direttori dei giornali che hanno la scorta. Hanno la scorta. Allora, se uno mette in discussione una scorta, però nei confronti di Saviano, che si è messo la maglietta rossa, e allora sono parole mafiose. Parole mafiose. Ma usa i termini, cazzo. Parole mafiose lo puoi dire a un mafioso, non al ministro Salvini, che può aver detto una cagata, come secondo me ha detto, inopportuna. Ma parole mafiose hanno un peso. Ma non è finita, no? Il grande guro. Così vinceremo le elezioni. Cari amici della sinistra, io non faccio parte della sinistra, non ho mai fatto parte, però così le vincete le elezioni, no? Con questa roba qua, dicendo che sono parole mafiose. Oppure, guardi, non voglio fare paragoni, guardi, non voglio fare paragoni, ma intorno alle posizioni estremiste di Salvini, lui non vuole fare paragone, ma intorno alle posizioni estremiste di Salvini, avverto lo stesso consenso che a 12 anni, nel 37, sentivo intorno a Mussolini. Porca miseria! Questo sì che è un fenomeno, è un padre della Repubblica. a 12 anni avvertiva il consenso nei confronti di Mussolini, come lo avverte mio figlio nei confronti di Salvini. Forse a 12 anni all'epoca erano già degli adulti, però, insomma, lasciamo perdere che lui avverte il consenso a 12 anni. Camilleri avvertiva il consenso nei confronti di Mussolini quando aveva 12 anni. Allora mi chiedo, se oggi lui avverte nei confronti di Salvini, non voglio fare paragoni, lo stesso consenso che aveva Mussolini, quindi stai dicendo che è lo stesso periodo, è come il fascismo, non voglio fare paragoni. Questa è la gigantesca ipocrisia dico o non dico. Questo sì che mi sembra un po' mafioso, no? Non la, non penso che lui sia mafioso, ma questo modo mafioso di dire le cose, no? Mafiosetto. Non voglio fare paragoni, ma mi sembra come il fascismo. Non voglio fare paragoni, ma è come quando mi sentivo con Mussolini, no? Questo come lo considero, questo atteggiamento, se non mafioso? Ma vado avanti, vado avanti, perché poi uno può dire porro il pazzito e diventato del giallo verde. No! Io sono tanto più arrabbiato quanto più uno dovrebbe fare delle critiche serie a questo governo, serie, serie, col decreto dignità. Hai ragione Berlusconi, ma forse magari facciamolo una settimana prima. Ma l'altra cosa incredibile, oggi mi leggo, proprio per questo governo, uno dovrebbe criticarlo, le province di Trento e Bolzano decidono, una cosa minore, decidono di ammazzare lupi e orsi, così dicono i giornali. Poi non è così, ovviamente, perché sono specie protette, ma dicono che se pericolosi o se particolarmente pericolose possono abbatterli, giusto o sbagliato che sia, non voglio entrare nel merito di questa vicenda, perché qua arrivano gli animalisti e mi dicono che cacchio stai dicendo, non si toccano gli animali. Detto questo, però, quando io mi sento il ministro Costa, nominato dal Movimento 5 Stelle, diciamo, il forestale diventato carabiniere per grazia ricevuta di un decreto di Renzi, beh, sento il peso come uomo, ma buono, sento il peso come uomo. Stiamo parlando di vita e di morte, dice il nuovo ministro dell'ambiente, perché dobbiamo uccidere gli animali che sono esseri viventi? Ministro, ogni giorno uccidiamo gli animali, glielo voglio comunicare, forse ancora non lo sa, ma ogni giorno uccidiamo animali, che vada bene o che vada male, i vegani non vogliono che si uccidano gli animali, non sono dei vegetariani, diciamo, light, non vogliono per motivi etici. Lei mi sta dicendo che è sconvolto del fatto che ogni giorno uccidiamo esseri viventi? Sì, ogni giorno per mangiare carne e pesce uccidiamo esseri viventi, va bene? Io dico soltanto questo, ministro costa, ministro costa. Beh, vabbè, lasciamo perdere, però purtroppo non si può più, perché come fai? Il problema di questo governo è il dilemma di Trudeau. Cos'è il dilemma di Trudeau? Esiste un cretino, un cretino in tutto il G7, cioè nei grandi paesi del G7, è il ministro, il primo ministro canadese, Trudeau. Trudeau è il prototipo del cretino. Voi avete presente quello che a scuola anche andava bene, ma era un cretino? Questo è Trudeau. Trudeau è figlio del presidente del consiglio di un vecchio presidente canadese, un ragazzino viziato che aveva il padre premier. Cosa gli succede? Che quando era il ragazzino aveva qualche, diciamo, bollore, io pensavo che non l'avesse, invece ce l'ha, e quello che vi ricordate ha fatto vissire tutta la famiglia di indiani quando è andato da famiglia, che sembrava, e quello che dice che interrompe una signora, dice preferirei che usasse un aggettivo femminile per quella cosa, la desinenza maschile non va bene, un cretino totale, questo deficiente di Trudeau, cosa è stato beccato? Che da ragazzino, 22-23 anni, aveva tocchicciato una giornalista che poi dopo gli aveva chiesto scusa, perché poi insomma gli aveva chiesto scusa e la cosa riesce. E ieri in una conferenza stampa dice, eh sì, mi scuso, mi scuso, perché proprio io, quello del me too, quello del se non ora quanto, di tutte quelle cagate mostruose che sono tipiche del politicamente corretto americano, devo chiedervi scusa, perché ho palpeggiato una giornalista 20 anni fa, palpeggiato, gli ha messo la mano qua, sulle gambe, gli ha messo la mano sulla gamba, l'ha palpeggiato e chiede scusa dopo 20 anni. Allora, la sindrome Trudeau è che noi diventiamo talmente vintimi delle cagate che ci inventiamo e dell'animalismo e del buonismo e del rossismo e del perbenismo che poi alla fine ovviamente tutti noi siamo caduti in un incidente per il quale queste cose non le abbiamo contraddette con i nostri comportamenti, no? Quindi io trovo incredibile, incredibile la storia di oggi, quando io mi vedo i giornali italiani dico, ma ragazzi ma è ovvio, ma è ovvio che hanno vinto, è ovvio che ha vinto Salvini e continuerà a vincere di più, oggi leggo un reportage di Francesco Merlo da Palermo che è titolato La Nuova Primavera di Palermo ma quale primavera? Ma ci siete stati a Palermo recentemente e tutti orgogliosi 700.000 palermitani 80.000 immigrati ma secondo voi una città come Palermo col tasso di disoccupazione più alto d'Italia, tra i più alti d'Italia secondo voi gli 80.000 immigrati come li può trattare? Come li può governare? Come li può inserire? Secondo questi market food che ci hanno fatto vedere oggi Francesco Merlo e Leo Luca Orlando ma ci stiamo prendendo per i fondelli e all'inizio del pezzo vedo due barbuti che si baciano ed è tutto compiaciuto dal fatto che ci siano due barbuti che si baciano. Se due barbuti si baciano sono contentissimi o beati loro se ci sono due gay che si vogliono baciare ma che il fatto che si bacino due gay dà il senso che ci sia una primavera in Sicilia e che si è risolto il problema dell'immigrazione è di quelle minchiate per cui se voi vi leggete il pezzo voi dovete fare una cosa questo esperimento se non siete convinti del governo Salvini purtroppo c'è anche Di Maio e se vi fate convincere dal fondo di oggi di Travaglio che dice che è un cazzaro verde e che con lui sono tutti cazzari verdi ecco se siete incavolati neri per quella schifezza del decreto dignità se avete tutti questi pregiudizi nei confronti del governo giallo verde come io purtroppo ve lo dico se avete tutti questi pregiudizi dovete fare una cosa dovete nell'ordine guardare le motivazioni delle magliette rosse per l'emorragia umanitaria leggere l'intervista a Camilleri che dice che siamo in un neofascismo leggere l'intervista al ministro scusatemi leggere l'intervista sulla primavera di Palermo dove ci sono 700.000 palermitani 80.000 immigrati che è primavera perché due barbuti si baciano ecco quando avete letto tutto questo capite perché in questo momento purtroppo non ci sono alternative e si perdono le cartucce per criticare seriamente un governo che dovrebbe essere criticato per le cose che fa come per qualsiasi altro governo oggi è affidato vi ripeto a una lettera di Berlusconi sul Corriere della Sera il decreto di regista allora questa roba qui doveva essere la campagna vera non le magliette rosse non la primavera di Palermo che un centrodestra e anche un centrosinistra che il Jobs Act ha fatto avrebbe dovuto realizzare nelle ultime settimane di politica invece cosa fanno mi vedo Renzi oggi leggetevi Telese che nel giorno in cui si deve eleggere il sindacato il PD il sindaco il presidente del PD come dice bene Telese oggi sulla verità mi sembra cosa dice di che si è parlato ieri di Renzi beh io trovo favoloso sono siciliano l'isola ha un'emoragia di giovani a causa del lavoro certo che c'è un'emoragia dell'uva quella è la vera emoragia dell'isola questa è la vera emoragia dell'isola questa è la vera emoragia dell'isola non la primavera di Palermo va bene no Barbara non ti voglio non ti voglio rovinare la giornata non leggetevi le cose che vi ho detto e c'ha ragione Luca dell'inni l'opposizione non esiste più in Italia ciao Francoise impresa impresa continua a dire Giordano ha ragione perfettamente il tema vero è che dell'impresa oggi non si occupa nessuno ci si occupa della dignità uccidendo le imprese vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it e se vi piace questa zuppa condividetela ciao come ben ne dici manca l'attenzione sul mondo delle imprese purtroppo non solo io va bene ciao 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 buona domenica